Sì, se vinci questa partita, 100.000 bis da me. Non posso vincerla. 100.000 bis da me. Niente da fare, ragazzi. Ce l'abbiamo messa tutta, ma ancora niente. Uno si rompe il culo per restarle tutti e tre e mi muoiono in 30 secondi. Veramente vergognoso. Cambio skin. Ne metto una, forse, che è più giusta per giocare con loro. No, però, ma non faccia così. No, ma lo dico. Guardi, secondo me questa è la migliore che posso usare. Non di. Vedo così, vai. Anche la situazione qua sta veramente degenerando, quindi... Sì, va bene, però hai ragione, sinceramente. Ha capito, brei, bene così, bene così, molto bene. Non ci credo. Non aveva la pistola. 50, ziti, 50 qui fuori, vieni, vieni, vieni. 50 abbiamo anche io fatto. Si sta facendo un big qui dietro. Ha la pistola in botta, la pistola in botta, attento. Bravo, bravo, bravo. Bravi ragazzi, molto bene, molto bene. Io ho fatto un'altra kill. In realtà me l'ha rubata il bot, però l'ho messo in guando. Non ho materiale, però. Ho un po' di materiale, no? È il bot, è il bot, è il bot. Quando usi la skin di Peter Griffin, l'Herman me lo rimpulo. Merda. Detro così, raga. Ma c'è gente da una auto? Non penso che ci sia gente, però. Manco io. Ma però quals'è la? Quals'è che fate, qua? Che? Eh, quello che abbiamo killato. Ah, ne abbiamo killati due? Ma che sta facendo il suo bot? Ok, nice. Avete preso il bot? Sì. Quedo passi? Oh, leva di dalle palle. Passi? Passi. Passi? Altri passi? Ma sono tutti i bot, ragazzi. Ma quello non è stato un bot, eh? No, 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 sì, si batte. Un bot, sono un bot, ragazzi. Buono. Avete il medaglione, apriamo il volto. Arriva, arriva. Passi a questi, ma non sono botte, eh? Che non c'era neanche qual è andato. Avete scelta, avete qualcato, ragazzi? Eh, ci sono scelta di qua dentro. In realtà mi sta... Avete quelle bianche? Un nome e una tele, e tu? Guardiamo, cinque belle, vengono. Ho lasciato cinque bande qua. Attivo. Bene, bene, va bene, ma non benissimo. Stanno fuori? No, no, non lo so, ancora io. Non lo so, neanche io. Non potrebbe essere un problema. Io vado sopra. Attivo. Trovato, pompa. Perfetto. Ok. Stanno? Non lo so, hanno sparato, ma non li vedo. Non lo so, ne ho sparato. Mi sparano. Qua da me? Ok. Sto arrivando, sto arrivando. Iso, ho precato le armi. Andiamo. Tutto di me? Ti confermo. Ho lo spruzzino qua. Ho dieci mini, se qualcuno vuole qualche mini. Guarda, dieci mini. Questa non è? Tutto? Sì, è nello stesso. Ho messo le mini qua. Lo state fightando ancora? Ma stiamo fightando quello. Mi sa che è entrato nel volto. Passi qua da me, ragazzi. È qua, questo? È sotto qua? Oh, si aprirà da me. Merda, dai. Io vengo da sotto. Oh, bravo. Oh, questo fa male, raga. Ah, sono male silberò. Può far qualcosa per il cuore? Ah, arriviamo. Brutto? Brutto? È la zittina. Ho finito, ma se ho finito, ma se ho finito. Mi chi credo? Bianchissimo, bianchissimo, netto e bianchissimo. Abbiamo one. Pronto? Bravo, netto razzo. Finito, ma se non è lo visto. Molto bene, molto bene. Non sono manco venuto, eh. Questo qua è il pollo della lotta con Peter, raga, esattamente. È proprio lui. Merda, è già la 1 e mezza. Porca puttana. Come vuole il tempo. A vero? Merda. Sì, sì, questa qua è una skin pay to lose, raga. Assolutamente. Troppo enorme. Ragazzi, non mi fa prendi i medici che ti ho comprato. Dovete perché sono colpite e chi no? 12 qua. Sei atto qua. Mi ha presi, sono uniti. Hanno restato là, raga, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Sludero! Eh, mi sto prendendo le cure! Ma ragazzi, ma io ho 0 mazzo. Porca troia! Ho 0 mazzo, 0 mazzo, 0 mazzo, 0 mazzo. Rivo, andiamo, andiamo, andiamo! Qualcun può spiltare i mazzo? Eh, sì, troppo. 100, 200 io. Si possono già troppare anche poi macchine? No, 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 dopo, 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 dopo. Allora, avanti. Davanti. Ragazzi, ho perso o sono un'altra? Chi la trovo? Chi la trovo? Chi la trovo? Bravo, è tu. Motto il pump. Sta dentro. Cento. Morto. Fuori in canna. Sempre 10. Ma c'è ancora gente? Sì, in canna qua dentro. Vuole andare via? Ah, questo è lui. Vuole andare via pure lui. È andato via? Via per la montagna è andato. Oh. Andiamo. È andato. Salve. È uscito? Sì, sì, è morto. Bravo, molto bene. Allora. È per la montagna, ecco. No, no, dove? Ancora gente? Entri 10. Questa è un'altra team. Dov'è? 69, 1. Ok, chill. Ecco, sì, lo vedo. Oh, no. Sì, lo vedo anch'io, ne tu. Ai... Stando da te, ecco. Pronto. Qua sotto c'è ne uno, mi sento. No, è sorridere. Stando 10. Quanto è un'altra? Qualcuno ha una cura white? No. Sì, bende. Venga qua, dietro è lei. C'è un'altra? C'è un'altra? No, qua c'è morta. Ma chi è che ti spara? Ma non lo so, dai, lontanissimo. Guarda me. Stai giù, tipo, ho veramente 300 metri. Cioè, non era l'ultima. Ma, basta, basta, basta. Spamma, spamma, spamma. Ah, ragazzi, no, non ce la faccio con gli spammoni di giù. Dai, dai, una lista, e tu? Bravo, vai, vai. Ma non faccia così, però. Eeeh, questo qua ha 20 minuti fuori. Entriamo, io mi prendo la pompata e tu lo killi, Ezza. Schifo. Va bene così. Ma Vincenzo è morto ancora. Anzi, Zid, ti serve un duo? No. Dai. Ok, nice. Ma adesso non siamo noi, eh? Per quale cazzo di motivo continuate a crepare? No, non si è crepato, nessun altro zitto. Coglione. Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Siamo potuti, ragazzi, ho già capito. No, 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 qua, qua, qua. Meglio che dono le rapide ho già capito. Dietro 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 a piena di gente, Regan's. No, va bene, sei di Orlando, ti giuro che sta trollando, ti giuro che Nettuno trolla, ti giuro che Nettuno trolla, ragazzi, va bene, va bene, trollo. Ti giuro che Nettuno trolla. Non trolla, non trolla, non trolla, non trolla, sono tornati i suoi, Nettunazzo? Siamo fuori, siamo dentro. C'è gente. È zittino? Ancino, è mancino, può rimanere là. Vai, perché? Qualcuno prende la scheda di zittino che lo rebutto instant. No, no, ma può rimanere là. È un po' lontanino, però ora ci vado. Sto andando io, sto andando io, sto andando io. Che probabilmente morirò, bro. No, non c'è nessuno, lì, non c'è più nessuno. Eh, ma non ho cuore, bro. Esatto. Trovi, trovi. Come devi mai rikinti il bot, là? Io sono pronto a rebuttare, apri a prendere la scheda. Ok, sto andando io, zitta, sette la scheda. Vai, ha preso le schede, la scheda. Sì, sì, sono già in rebut. Ma dove sa il bot, qua? Abbiamo un problema, Xiu. Qual è il problema? Vincenzo? Abbiamo i due tizzi con i medaglioni davanti. Eh, sì, dobbiamo tornare a verso di a tutta destra che andiamo. Via, 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 via. C'è un'idea? C'è un'idea che non sono morto, non ci credo. Sono morto perché ho preso da una caduta, resta. Un minuto. Eh, da che c'è, zitta, che disagio. No, 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 no. Ma che disagio, c'è vita. È il disagio di giocare con lei, no? È il disagio di giocare con lei, no? È il disagio di vedere lei, che fa questa caduta, neanche io le faccio queste cose, mi scusi. Mamma mia, è il zittino. Cioè, ma lei è il zittino, ma viene pagato per giocare insieme a lei. Mi scusate, ma è un merito. Ancora no. C'erda. Ora è semplicemente masacistica. No, no, noi siamo. Cosa? Non mi devono le zi... No, no, ci mancherà adesso, lo sappiamo. No, no, siamo morti, siamo morti, no, invece, è altro che. No, dai, vedi, vedi. Ci guardo, ci guardo, coglioni di merda. Guardo, faccio vedere uno di sei. Dai, dai, fai, dai. Ci guardo. Guardate la mappa, i medaglioni, tutti qua sono. Ma perché? Perché? Che situazione brutta. Ma se lo fai da tre di loro, se lo vuoi. Ma no, ma... no. Sono tutti i medaglioni qua, però nessuno lo fa. Però giuro che mentre andate in zona potete prendermi la zona, perché quella è la scheda, perché quella è andata via. No, no, ma non ti prendo niente. Ti prendo la scheda, l'ho rebuto io. Ma non mi fai un cazzo. Ti riprendo la scheda, l'ho rebuto io. No, non mi fai un cazzo. Non ho avuto la posta che c'è. No, no, tutto, tutto. Ho tutto, tutto, tutto. Non credo. Tu puoi prendere la scheda, veramente. Puoi prendere la scheda, veramente, dai. No, no, non la prende. No, non la prende. Come che si vede indietro? No, non è prendere la scheda. La prende, la prende che ho un pronto reboot. È morto, è morto. Come sono morto, sono morto. No, non c'è gente. Ok. No, ma Cristo, addio. Ma perché tornavano indietro? Eh, lo scordi uno. No, zero mazzo, zero mazzo. Come è morto uno? Guarda, siete concetti veramente uno schifo, raga. Merda. Me ne ho dirsi, troppo pericoloso. Sì, sì. Devi dire, devi dire. Fare uno. Brava, brava, brava. Vabbè, tu. Vabbè, tu. Vabbè, tu. Vabbè, tu. Non cagarmi, non cagarmi. Abbiamo una scheda, abbiamo una scheda. Eh, lo ributto instant. No, no, mi ributi, lei, mi ributa a Nettuno. Ma io la ributo in safe, eh? No, 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 mi ributa a Nettuno. Va bene. Nettuno mi ributa a lei. Un altro team. Sono veramente complicata. Cioè, questi sono quattro, eh? Una, due, tre, quattro. No, ragazzi, qua però sono tornati ai medaglioni, raga, oh, sto scherzando, spero. Ressi, resti, resti, resti. Non posso lessare. Ressi, resti, resti, resti. Ma per da dove? Ah, ma non è andata qua giù. Io pensavo di sì. Cazzo, come la vedo malissimissimo. Siamo morti. Ora forse c'è il treno che non si fa sentire. No, non siamo morti finché ci sono io in game. Non si metti da questo lato, per l'amor di Gesù, Cristo mio. Perché questo lato? Merda, ha ragione. Può spostarsi, può spostarsi, non si ne esede adesso. Oh, va. Ok. Si è resettato, Zedzi. Zedzi, continui a resettarsi. Stai scherzando, spero. Stai scherzando, spero. Lei è veramente vomitevole a guardarla, eh? Beh, Vincenzo, lei è morto sei volte, non so che è più vomitevole. Porta bene, Vincenzo, su, dai. Go, go. Adesso hai un'ultima di ieri, guardate. Guardate. Oh, grazie, Nettuno. Guardate i miei che vanno indietro. Eccoli là. Pronti. Partenza, via, signori. Non sono morto di nuovo. Dai, non ce la faccio più, ti giuro. Ma che cosa che sei morto, perché? 8-5. Sai che c'è la carriera, Nettuno? Abbiamo bisogno di una carriata, Nettuno. Ma mi sa che mi sono inseguendo a me, dai. Abbiamo bisogno di una carriata. Ho tirato su tre volte. Non so se mi danno come i medagli e sarei butto così tante volte in un game. Eh, no, non sono bussine. Mi sono bussine, 4. Mi ne butto un'altra volta e vinto 200 V-Bucks. Guarda. Guarda uno. Guarda uno. Ma che sto vedendo? Madonna. Sto provando. Rebutti, rebutti, Xero. Merda. Abbiamo delle schede? Abbiamo una scheda. Abbiamo una scheda, abbiamo una scheda. Oddio. Non è l'impulso. Eh no, ma tanto rinseguono. Dovrebbe andare qua sotto dopo. Dopo, 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 però. Capita, capita. Via, 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 via. Eh, no, no. Eh, ma io avevo già previsto anche questo. Purtroppo, ed è più difficile missarla che hittarla questa skin. Oh, lo metto, tranquillo. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, si sono fermati. Sì. Ma come posso... Ma perché scusi sta andando contro safe? Beh, intanto vada in safe, no? Ce l'ha dietro. Ma stanno a 6 meriti. Fare quello che vuole. Molto bene. Sì, vabbè. Però almeno non prendete l'altro danno. Ma sparano ancora a lei? No, no. Eccola qua. Eccola qua, signori. È proprio lei. Difficile, X1. Com'è più calma, com'è più calma. È troppo grosso quel pollo. No, no, no. No, questi davanti, ragazzi. Dall'altra parte, X1. Ma ce l'ho veramente brutta. Ce l'ho butti in zona, vai, Rec. Vai, Rec, io le butto, Rec. Non posso, non posso. X2, X2. Vai, Rec. No, no, no. Non può ributtare, c'è il passo. No, no, hai tre crashpad. Hai tre crashpad, Rec. Hai tre crashpad, Rec. Hai tre crashpad. Hai no crashpad. È so squad. No, no, no. C'è il genito. C'è il genito. No, no, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Non posso, non posso. Da come non posso? No, vabbè, ributta, ributta. Ma guarda, guarda, guarda qua, diamanti. Ma che sta succedendo? Non posso, non manco ti sento. Sì, ma hai carrucciato. Eh, vabbè, va sentito già. Va sentito. Va sentito. Oddio. Hai 120 di vita, bro. 2 morti, 3 morti. Come da chiudere, ti dà un sacco di merito. C'è uno in Sky, c'è gente in Sky? Con il tuo crash che puoi arrivarsi. No, come tu in Sky? Sì, c'è gente in Sky. No. Completamente brutto, inutile quella schiacca. Oh, oh. Non si credo che c'è una cabina macchia. C'è gente qua? No, non si credo, non si credo. 2 build. Oh, ok. Cioè, mi sta seguendo a me, con tutta quella gente che aveva là. Eh, logicamente ci fa muore, perché se miss è il primo, abbiamo il secondo. Impazzisco. Build, build. Calmo, calmo. Se build o scoprono. Mi sa che le sanno, in realtà. Secondo me le sanno. Anche secondo me le sanno. Tu devi vicino a questo, però. Sarà muore a prescindere. No, no, io ci. Sì, senti i passi del colletto, proprio. Che sa, schiena rispecchia proprio. Per favore. Perché di queste cose è quasi uguale. L'ultimo medica. Faccio una scivolata grandissima. Su, se la vincita, vincita partita. Non posso vincere. 100.000 abit da me. Guarda il surge adesso. Ah, vabbè, il bro. Oh, l'ho scicchionato. L'ho scicchionato. L'ho scicchionato. Arriva la safe, arriva la safe. E' pure morto, è pure morto. Corra, corre, corre. Nessuno la vede. Corra, corre, corre, corre. Corra, corre, corre, corre. Ah, è build, è build. Ma che se interessa, è meglio la build. Vabbè, vabbè, vabbè. No, 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 è morto. E' che puttanella, stronzona! Non avevo neanche icebreakle. Comunque terzi, raga, molto bene. Un bel game. Questo è veramente tutto un bel game. Sono contento che le sia piaciuto.